signori e signori bentornati nel let's play di unlawake 2 siamo nel secondo episodio non tanto ci è stato detto nel primo episodio nel senso abbiamo visto questo omicidio di questa setta di questo ex agente dell'fbi abbiamo visto che abbiamo la possibilità di sfruttare il nostro condominio mentale per mettere insieme le idee e cercare di arrivare a una soluzione ora stiamo andando a parlare con i due testimoni che abbiamo trovato che hanno diciamo assistito a qualcosa quindi sicuramente l'indagine qua avrà una bellissima svolta vediamo come andrà i smell coffee a bellissima a bellissima Sì Questa è un attore raga Sono loro? Sì Questa è un attore Va bene, potete dirmi cosa avete visto? Questa è un attore Questa è un attore E' un attore E' un attore E' un attore E' un attore Raga ma le espressioni di quando parla le avete viste? Cosa hanno trovato raga? Cos'è che ho sbloccato? Aspetta Alan Wake Alan Wake Oh, mamma mia quanta roba ha aperto E' un attore E' un attore E' un attore La setta dell'albero Ok, dobbiamo capire Ok Cosa può essere la setta dell'albero Scopo della setta Che tipo di setta è? Che tipo di setta è? Ok Ok Non stavano mentendo Il cult del tree What are the bookers telling me? Fondo their necklace The symbol is two triangles The cult wants their spruce tree bag Tammy Finders keepers ed My publisher will want this on the cover Tammy found Tammy ha trovato qualcosa Però io ancora non ho ben chiaro Lei come fa a sapere Come fa a venire a sapere una cosa che non gli sono state dette Cioè dei poteri? E questa qui è? Cosa cosa che succede a tua bambina? Cosa sei? Ehm... Scusi. Cosa sei? Non so cosa stai parlando. È me, scusate. Rose. Tu conosci me. Non credo che faccio. E che cosa succede a mia bambina? È un ragazzo. È un ragazzo. È un ragazzo. È un ragazzo. È un ragazzo che non ricordi. Cosa sei? È un ragazzo che non ha? Oh, questo è il ragazzo. Tu s'accaggia trafittiche. È un ragazzo. È un ragazzo. No. Tu mi scordi per qualcuno altro. Se lo dici. Come fa a sapere queste cose di me, raga? Sicuramente... Come ci conosciamo esattamente? Quindi, Rose, aiutami. Come pensi che ci conosciamo? Tutti conosciamo qui. È stato un tempo, ma non mi ricordo mai un occhio. O un ordine di coffee. Credo che ho solo uno di questi occhi. Hai visto qualcosa di strano? Eh, la festa del cervo. Praticamente tutti. Buono a sapere. Mmm. Nessuna prova. Andiamo un attimo nel tabellone che dobbiamo andare a inserire. Una corana della setta con simbolo triangolare. Ok, l'andiamo messo nel... Che tipo di setta? Simboli della setta. Abbiamo anche altre cose da trovare, ovviamente. Ok. Un po'. Andiamo. Ok, andiamo all'obitorio. Ok. 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 Ma tu puoi capire questo, certo? Sono qualificata per fare esaminazioni. Sì. Al morghe. Mi chiedono sempre. Non posso dire che sento la stessa. L'ha giocata. Scusa. Stavo aprendo una porta che non era quella che dovevo aprire. Ok. Raga, esaminiamo il corpo. Mamma mia, raga, che impressione, però. Causa del intercesso. Allora. Lesioni da difesa. Ha lottato. Tatuaggi? È un testo. È un testo. Il cadavere è stato sommerso dopo essere stato ucciso? Raga, però c'è qualcosa che mi sta attanagliando. Cioè, nel filmato che abbiamo visto, loro gli hanno tolto il cuore, ma poi sono arrivati i tizi subito. Arrivati subito i tizi, raga. Allora, ispezioni di Night Gale. Vediamo cosa può dire di c'è il cadavere. Abbiamo un sacco di foto adesso, ovviamente, da metterci addosso, eh. Il testo è sbavato, sembra il contrario. Il testo non è stato morto prima di rinforzare. No. Infatti, è sicuramente stato inciso dopo la morte. C'è sicuramente qualcosa in suo testo. È un pezzo. La causa della morte è un evidente trauma toracico. È stato inserito qualcosa. Causa del gonfiore è sconosciuta. Strani tatuaggi su pelle e cuore. Nella cavità toracica c'era una pagina. Anche ha un libro? No, con le mani. I guantini. È il stesso tipo di pagina che abbiamo trovato a Colgen Lake. Nightingale haunti Saga. Non lo vedo. The Taken non lo vedo in bright light. Light lo scopo, lo scopo. Nightingale non aveva un cuore, ma qui è stato. C'è un uomo. Nessuno ha creato una fantasia di noi. Hey, hold on. Abbiamo trovato questi tipi di pagina. Non credo che erano rilassati. Per il caso di questo. Abbiamo trovato qui. no 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 wait well sheriff what the hell who do you take me it's dark didn't see her could not see into bright light I'll make you pay he's coming no weapon the page said to get into the light provare a stare nella luce per non farti individuare dai nemici he can't see me in the light i rifugi sicuri ripristano parte della tua salute ragazzo lans se esci da un rifugio sicuro attacchi da esso durante il combattimento diventerà temporaneamente non disponibile gotta move now okay go Andiamo. Oddio! Raga, che storia! Sì, però, raga... Ma sono morti da... Questa era quella che aveva il tipo in mano. Non letta... La stanza delle autopsie era un disastro. Sembrava che fosse esploso una bomba. Nightingale diede la caccia a Saga. Non la vide sotto la luce. Barcolò oltre. I posseduti non vedevano né la luce abbagliante. La luce li feriva. Li rendeva vulnerabili. Premo l'interruttore che fa click. Mostrano il clicker. Le luci sono spente. Ma a casa c'è qualcuno. Ti ha portata qui, Hemingway, strega. Fuori da casa mia, urlò Nightingale. Ma quello era quello che diceva... Il morto. Un'onda di terrore si infranse nella mente di Saga. La tremenda verità, Nightingale non aveva un cuore nel petto eppure era lì per uccidere. Un mostro. Il mondo aveva barcollato. Aveva perso l'equilibrio e ora si intrappola dall'altro lato dello specchio. Totale, raga. Sto gioco è una hit. Ah, è vero perché... Siamo in una caldera noi, raga, eh. La vittima di un morto ritualistico si tratta di un monstro. C'è una connessione? Mi sembra come il culto dei tree che fa rituali per creare monstri. Probabilmente. Dobbiamo iniziare a imparare il obiettivo del culto. Il loro purpose. Se non sai come procede, ricorda di controllare il luogo mentale. Mamma mia, quanto ci sarebbe da parlare, raga, davvero, in così poco? Quante idee possono venire fuori? Questi, raga, sono morti davvero. Cioè, tu non sei un sogno. Comunque, dicevo che Bright Falls è una cittadina che sotto ha delle radici vulcani... Cioè, nel senso, c'è un vulcano sotto. E questa cosa qua non è da sottovalutare, eh. Raga, io non me l'aspettavo. Io non so nulla di sto gioco. Cioè, non so niente. Io mi ricordo di Alan Wake, che c'erano i mostri l'uno. Allora, Nightingale ci ha attaccati. Un uomo morto è diventato un monstro. L'uomo, come un modo di combatterelo. Le pagine prediscono il futuro? Non c'è una risposta razionale. Questo è il caso che dovremmo risolvere. Sì, raga, cioè, dove è andato Nightingale? Cioè, fondamentalmente, queste pagine qua che ci dicono il futuro. Saga era tornata a Cauldron Lake. Era anche lì un posseduto, una creatura dell'oscurità. Porniamo a Cauldron Lake. Posseduto. Dobbiamo andare qua. Stoppettavo. Prima di chiunque altrimenti si tratta. Ok. Segui le tracce di Nightingale a Cauldron Lake. No, no, raga. Comunque è bello inquietante, bello creepy, eh. E' vero, vero, Thornton? Il cuore di Nightingale era morto. Ma come potessi farlo? E' vero! A me non mi sembrano neanche abbastanza traumatizzati da quello che è successo, eh. E' una buona parola. Buu. Questi stanno lavorando, hanno dei cadaveri sotto. Andiamo, vieni. Andiamo alla centrale, va. In due siamo pochi. Ma non possiamo assumere che la persona che scrive queste pagine non gioca a noi. Ho concetto. Ma è la nostra migliore lead. È lo stesso simbolo del... È lo stesso simbolo della setta. Eh, voglio metterlo qua. Vai. Graffitto triangolare trovato in città. Vi va a mettere tutto, raga, eh. Vedete che comunque il mondo va avanti, eh. Se vai nel castello mentale, occhio. L'auto può essere usata per viaggiare tra i luoghi. Ok. Ah, quindi ci possiamo spostare liberamente, quasi. Pure lui. Tommi ha detto che lui. Lei è scritto un libro sulle sua scopo. Tu conosci il carattore del dettaglio dei suoi libri. Alex... Casey. Si. Ho scoperto le storie del gioco. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Scusate. Ha ha. È il stesso nome, un lavoro simile. È il primo che qualcuno pensi. Mi ha nello, ma è tutto. Certo. 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 Vieramente una storia d'orrore, raga. Certo. 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 We go. Il cuore. Certo. Certo. Sovrapposti, 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 sovrapposti. 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 E noi offriamo una varietà di guida di tours, città, 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 quale che si tratta il tuo fancii. Tu nomi, abbiamo probabilmente lo. Cosa è questa cosa? È solo una stazione monitorizzata, ma'am. Il Tribunale del Comitore controllo controllo il volcanzo e il livello dei toxici. Non bisogna preoccupare, però. È principalmente per risultati. È una cosa bella storia. È sembra nordic. Vedete che non l'ha fatto mia madre Raga questi sono importanti questi dialoghi credetemi Vedete quello che vi dicevo prima il vulcano Veramente c'entra qualcosa raga C'è parecchia carne al fuoco eh Una cosa proprio non mi torna Scomparsa di Breaker Sovrapposizione Sovrapposizione Ok seguiamo le orme Aspetta dov'è che vanno? Dritto no? Si Chissà cosa intende per sovrapposizione Ma di che cosa? Comunque alla fine Il fatto che Breaker Si è scomparso Breaker è lo sceriffo Si è scomparso così È davvero molto strano E più che altro lui sapeva Un gra drive Uninero Un according Secondo Di che cosa dopo Di questo? Un grazie Unde Cosa uedo Diändern Unhängig Un sound Un silence Un НА Un Un Grazie. La strega. Fammi leggere il testo qui. Non c'è alcun mistero a Kaldun Great Lake, così chiamato per la sua forma di calderone. Eppure vi sono molte storie misteriose sul lago, quella secondo cui sarebbe uno scuro ingresso nell'oltretomba. O quella di una strega del cui il calderone sarebbe il lago stesso. Secondo la leggenda, quando gli affetti di uno sceriffo locale sono stati corrisposti, egli accusò la dama in questione di averlo stregato. La donna fu affogata, ma dal suo mestolo nacque uno strano albero chiamato Witch Sladdle. La donna tornò a vendicarsi. Se non era una strega prima, lo era adesso. Ucciso lo sceriffo negandolo nel lago. Quindi gli strappò il cuore e lo chiusi in una scatola. Con il cuore lo avrebbe evocato dal lago per compiere il suo volere. Così narra la leggenda. E questo l'albero? La porta è aperta adesso. Un'altra pagina. Ok. Raga, ovviamente quello che scrive è Wake. Penso di essere abbastanza sicuro di questo. Però ancora bisogna capire. Giustamente sarà comunque un pezzo importante. Ma perché finisce la musica allora... Tutto bene. Fa la tensione dietro l'angolo. Io, raga, adesso andare nel mio palazzo mentale non me la sento. Lui sa il mio futuro. Lui mi sta dicendo quello che devo fare. Questo è il hut di dottore. Usibile. La torcia illumina gli oggetti importanti. Che non per forza doveva essere in casa. Ok, abbiamo un fusibile. Accendi le luci di Witch Sant. Da dove però? Questo abbiamo preso lo scorso episodio. Probabilmente il generatore è fuori. Eccolo qua. Mamma mia. Salvataggio rapido. È una sala relax questa. Quindi questo è un posto sicuro. Sì, magari perché tra un posto opposto si riempie di mostri. Puoi venire qua. Salvare un'altra pagina. L'imagine del Witch in questo sign. Saga ha trattato il Witch. La linea smuggata sul cuore. La seconda parte recita da memoria. Ti ho portato il cuore, Witch. Showmi il terroirio. Saga ha trattato il cuore nel cuore sul sign. Oh minchia raga, il buco del cartello. Nightingale è dentro una sovrapposizione. Witch Sladdle è un portale necessario il rituale. Torreggiante sopra Saga. Osservava lei e la strega, il cuore di Nightingale. Un grumo di carne morta nella sua mano. Mi sa che io raga, devo prendere il cuore. Osservava lei. Oddio, no. Il cuore dov'è? Il cuore del Nightingale, dove è? Dopodiché, hanno giocato le cartelle nella sua storia generale. Il Witch ha trattato il cuore. Sì, fuori dal mio casa. Il cuore del Nightingale è nella sua storia generale, in un friggio. Chi è che gli dice sta roba, raga? Sto impazzendo, giuro. Ho bisogno di controllare la storia generale per il cuore. Casey, sono andata nella sua storia generale. Credo che so come entrare in un'intervista. Roger, ho seguito alcuni strumenti di ATV nei cittadini e mi sono diventato tornato. Mi ricordo di salvare spesso. Ok. Dialogo. Condominio. Ok, dobbiamo andare all'Emporio. Dove è l'Emporio, però? Ma qua c'è il lago. Minchia, comunque inquietante sto lago, raga, giuro. No. Andiamo. Ci sto andando. General Store, di qua. Dobbiamo stare attenti alle batterie, raga, perché... Non ne ho tante. Eccolo il genero Store. Oh, cazzo. Eccolo il genero Un uccultista, un monstro come Nightingale. Porca Eva! Sta proteggendo il cuore. L'onda si infranse con furore. Dall'altro lato dello specchio è l'onda? L'onda si infranse con furore. Ti ho apportato il cuore, strega. Mostrami il terrore. Mi sento che mi riconosco questo. Il cuore, il cuore. Mi sapevo che fosse qui, come ho visto in un sogno. E ora ho bisogno di dare il cuore al cuore. Mamma mia. Andiamo a mettere il cuore e ci vediamo domani. Oh, più spazio. Un fucile. Controllare con Dea bendata alla cassa. Casey, sono un uccultista in l'area. Sono scoperto, come Nightingale. Guardatecici fuori fuori. Sì, grazie per la scuola. Sto ancora trovando il mio cammino. Tu hai il peggio senso di direzione. Ma chissà che la torcia... Allora, vedete? I codici sono 705, 713, 717 e 723. Qua ci sono gli stessi numeri in fila. 23, allora dobbiamo provare. 739 e 745. 9. Ho aperto subito. Abbiamo un fucilazzo, raga. Abbiamo tornato il lago. Di un lago. Non ci sono le cose. Abbiamo tornato al lago. È un lago. È un altro, non ci sono le cose. Che paura raga Questi momenti non ve li taglio Perché voglio che vi cagliate addosso assieme a me Stronzi Perché È tutto così tranquillo Nel suono della pioggia Che da un momento all'altro può succedere qualsiasi cosa Qua è l'unico posto in cui Sono abbastanza safe Ok Non andare a mettere il cuore Io vado alla luce Ok È piano Oh no We want you tonight Oh, non sarò mai vantato a questo. Oh, no. Il cuore. Vai, metti il cuore. Questa è un'occhiata. La città è rata nel fronte del occhio. L'ho portato a te la Cia, la Cia. L'ho portato a te la Cia. Oh cazzo Signori Ma non prende Signori Fine del secondo episodio Davvero tanta Tanta roba questo gioco ragazzi Sono gasatissimo Abbiamo pochissime munizioni Dobbiamo affrontare Nightingale Domani ore 14 Spero ragazzi di portarvi questo weekend Due episodi al giorno ma la vedo dura Ok la vedo molto dura Probabilmente domenica ce ne sarà uno Forse anche domani Farò da lunedì 14.18 Non lo so controllate comunque su Instagram Vi voglio bene ragazzi Un bacione Grazie per il supporto Ciao ragazzi Ciao a tutti